iniziamo questo è il sentiero iniziale adesso spengo la macchina perché è un po noioso finché non si intravede la diga a dopo siamo alla diga che crea il lago delle fate il lago di N fail con il lago devo installare la data con carolo con le rotazioni e si e non si e non vanno ce l'altro che un percorso Lo vedo un po' giù di acqua. Ok, adesso inizia il sentiero vero e proprio in mezzo al bosco. Più della metà della gente si è fermata per il picnic, proseguono solo il camminatore. Ok. 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 Grazie. 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 Sentire degli indiami. Grazie. 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 Una volta ci abitavano i minatori. Tu avanti di lì io faccio la deviazione. Questa, se stiamo avvicinando alla zona delle miniere, miniere aurifere, abbandonate da decenni. E queste erano le prime casupole degli abitanti. Sito mineraio dismesso di crocette. Sì. 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 Questo è il villaggio liberario abbandonato. 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 Anche se Causafrana è interrotto a 20 minuti da qua. Vediamo. Noi proseguiamo. Adesso proprio in un sentiero di montagna. Passo dopo passo. Ok. Bene. Vieni su tranquilla. 12.41. Per uno e mezzo magari facciamo lo spuntino. Ok. 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 La discesa piano 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 piano. Poi non è tanta la salita adesso. Ok. 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 Wow! Wow! Eh sì, piccolo spettacolo! Vediamo che siamo arrivati alla meta, Prato ci si forma. Grazie. 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 va va Grazie a tutti. 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 Veloce. Veloce. Ok. Veloce. 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 Veloce.